L'Ecologica G festeggia i suoi primi 40 anni di attività. Sabato prossimo al Cursal il fondatore Luigi Chiodi incontrerà la città e gli sportivi. Un appuntamento molto atteso perché sarà l'occasione anche per dialogare con quanti hanno fatto la storia dell'Ecologica G, una delle società di atletica più importanti nel panorama regionale e nazionale. Questo è un bel traguardo che raggiungiamo dopo un lungo percorso, un lungo percorso che si è snodato un po' su tutte le strade d'Italia e del mondo con i nostri atleti che hanno partecipato in tanti anni di esperienza a tantissime manifestazioni. Poi avete organizzato anche in passato la sua EG per Giulianova, un appuntamento che si ripete nel tempo. Sì, questo è il fiore all'occhiello delle organizzazioni nostre oltre ai meeting che organizziamo. Io stavo facendo un piccolo resoconto di tutto quello che abbiamo organizzato. Superiamo le 100 manifestazioni su strada organizzate in 40 anni. Può sembrare poco ma sono tantissime, visto l'impegno che ogni volta bisogna mettere in atto per organizzare la manifestazione. E quasi una quarantina di meeting nazionali e internazionali su pista, fra i quali il meeting di Nereto che è stato soprannominato il meeting dei quattro continenti dove c'erano atleti da tutto il mondo a partecipare e nonché i grandi campioni italiani. Quindi questo a livello organizzativo la dice lunga su quanta strada abbiamo fatto, quanto siamo cresciuti pensando che organizziamo la Dio 79 come prima gara il 30 dicembre 1979, l'anno in cui ci siamo costituiti come società sportiva. Quanti iscritti contate oggi? Oggi contiamo quasi 150 iscritti, dei quali gran parte fanno parte della scuola di atletica, una scuola di atletica che abbiamo fortemente voluto a Giulianova per avvicinare tanti bimbi al mondo dello sport, non solo l'atletica leggera. E poi questa scuola porta il nome di una persona che a Giulianova ha dato tantissimo, non solo a Giulianova ma allo sport in genere, penso, il grande compianto maestro dello sport Marco Ettore.